Carmele 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 che me ne porto ti tengo aperta a porta Carmela come al solito mi viene a consular e facciamo a papà e qua scusa che naso un'ambola che sta bambola ne che fa tutte le sere per coppa all'astica vena all'unno e già passi già coppa all'astica c'è sto anch'io e le dico sto qua per te e a su un'ambola che era bambola va su un'ambola in braccia a me e a su un'ambola che era bambola fa su un'ambola in braccia a me e a su un'ambola che era bambola fa su un'ambola in braccia a me che era bambola che era bambola che era bambola che era bambola è bambola Grazie a tutti